Mariana D'Amico, casa a prima vista, come era prima del ritocchino Mariana D'Amico è diventata una figura molto nota e amata grazie al suo ruolo nel programma Casa a prima vista, di Real Time. Con la sua bellezza e professionalità, ha conquistato il pubblico e si è affermata come una delle agenti immobiliari più seguite degli ultimi tempi. Mariana, insieme ai suoi colleghi Gianluca Torre e Ida Di Filippo, forma un gruppo competitivo e competente nella città di Milano. Oltre alla sua presenza televisiva, Mariana gestisce un'attività immobiliare di successo chiamata Patrimoni Reale State a Milano. Nonostante i numerosi impegni professionali, riesce a dedicare tempo anche alla sua famiglia. Mariana è sposata con Sami Berà e insieme hanno due figli. Mariana è molto attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e professionale. I suoi follower apprezzano particolarmente i suoi allenamenti intensi, che le permettono di mantenere un fisico invidiabile. Tuttavia, molti si chiedono come fosse prima di alcuni interventi estetici. La terza stagione di Casa a prima vista ha appena iniziato a essere trasmessa su Real Time. Quest'anno, il programma presenta alcune novità interessanti. Gli agenti non si limiteranno più a Milano e Roma, ma esploreranno nuove città in tutta Italia. Inoltre, i team di agenti verranno rimescolati, creando nuove dinamiche di gruppo e sfide inedite. Le regole del programma restano le stesse. Gli agenti devono ascoltare attentamente le esigenze dei clienti, trovare la casa dei loro sogni e cercare di vincere la competizione in base all'esito della visita finale. Mariana D'Amico è sempre stata una donna attraente, ma ha deciso di sottoporsi a un ritocco estetico per migliorare ulteriormente il suo aspetto. Ha optato per un intervento alle labbra per renderle più piene e carnose. Questa scelta, seppur personale, ha suscitato diverse reazioni tra i suoi fan e il pubblico. Dopo aver visto alcune foto di Mariana prima del ritocco, le opinioni si sono divise. Alcuni la trovano irriconoscibile, mentre altri la riconoscono immediatamente. Indipendentemente dalle opinioni, è innegabile che Mariana rimane una donna bellissima e affascinante, sia prima che dopo il cambiamento. In conclusione, Mariana D'Amico continua a essere una figura di riferimento nel mondo immobiliare e televisivo, mantenendo sempre alta la sua professionalità e il suo charm. Che cosa ne pensate di questa trasformazione? Vi sembra esagerata? A voi i commenti! Iscriviti al nostro canale! Ciao! Ciao!